Oggi abbiamo presentato l'apertura della stazione di Orte a un momento molto importante perché va a unire un centro che è importantissimo come quello di Orte, ma non solo Orte, Orvieto, Rieti, all'alta velocità. Vuol dire unire una parte importante d'Italia a quella che è la linea che mette in collegamento Roma-Milano, ma non solo perché entrando in alta velocità poi i passeggeri possono, cambiando treno, raggiungere tutta Italia. Parliamo del sud, parliamo del nord, andare a Venezia, andare a Bari, andare a Lecce, andare a Reggio Calabria. Nel fare questo abbiamo pensato però anche a come arrivare a Orte, quindi tutti quelli che sono l'intermodalità, cioè i collegamenti regionali o con autobus, che permettono ai paesi limitrofi a Orte di raggiungere facilmente l'alta velocità. Questo è il nostro compito, fornire un servizio a 360 gradi, non solo l'alta velocità, ma le ferrovie devono portare tutti i passeggeri il più vicino possibile a linea in alta velocità.